Ancora nel segno di Vittorio Esposito, dopo i due gol messi a segno nella gara di andata, il furetto bianco-rosso, grande ex di turno, si ripete con una tripletta. Se ce ne fosse stato bisogno, la sfida contro i Teatini ha dato la conferma che il Matelica è Esposito dipendente, perché nelle due gare precedenti, in cui non era stato utilizzato per una squalifica e per infortunio, la formazione marchigiana aveva collezionato due sconfitte. Nel Matelica assente Pesaresi, appiedato dal giudice sportivo, perfetti solo in panchina, ma non al meglio della forma, così come Esposito sceso però in campo, sebbene fosse al 70% della condizione. Chieti che affida l'attacco a Dos Santos, gara vivace soprattutto nel primo tempo, quando al decimo Esposito fa vedere tutto il suo talento. Il rigore che sblocca la partita arriva al quattordicesimo, quando proprio Esposito viene abbattuto in area da Mariani. Dal dischetto il numero 10 di casa non sbaglia. Il Chieti reagisce immediatamente, al sedicesimo reclama la massima punizione per un fallo ai danni di Dos Santos, ma l'arbitro lascia proseguire. Nero-verdi, reattivi, e nell'arco di un paio di minuti fanno correre i brividi alla retroguardia matelicese. Clamoroso il gol sbagliato da Dos Santos, con Nobile in uscita. Al ventottesimo, per le proteste esagerate, viene allontanato dalla panchina del Chieti il direttore sportivo Omar Trovarello. Abruzzesi vivi al trentatresimo con Comini, che nel tentativo di mettere un pallone nei sedici metri avversari, colpisce la parte superiore della traversa. Un attimo dopo, invece, Dos Santos a colpire la base del palo. Al trentasesimo, annullata la rete al numero 9 ospite per una posizione di fuorigioco, segnalata però con ritardo dall'assistente. Il gol che taglia le gambe agli ospiti arriva nel minuto di recupero direttamente da calcio d'angolo, con Esposito che manda il pallone sul palo lontano, scavalcando Romaniello, non immune da colpe. Nella ripresa arriva la terza rete marchigiana su calcio di rigore e il settimo, quando l'arbitro punisce, in modo piuttosto severo, il fallo di mani di Sbardella su tiro ravvicinato di Giovannini. Mister Marino prova ad aggiustare la squadra con un paio di cambi, ma il Chieti, visto per mezz'ora nel primo tempo, sembra essersi eclissato. Al venticinquesimo, cartellino rosso per De Keiros, che era entrato ad inizio ripresa al posto di Mariani. In inferiorità numerica, il Chieti va in difficoltà e al trentunesimo, Giovannini impegna Romaniello in una bella parata. Subito dopo, Esposito lascia il campo tra gli applausi del proprio pubblico. Nel finale, in pieno recupero, secondo cartellino giallo per Federico Delgrosso, con automatica espulsione. Vittoria che lascia il Matelica al secondo posto in classifica, mentre il Chieti dovrà sudare ancora un po' per acciuffare la salvezza matematica.